640 kg di droga, in prevalenza hashish e marioana, sequestrati presso uno spedizioniere operante all'interno del CIS di Nola. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro il carico di sostanze stupefacenti particolarmente ingente con provenienza dalla Spagna, inevitabilmente destinato ad alimentare le numerose piazze di spaccio presenti nell'Internland Partenopeo. La grossa partita di stupefacente, sicuramente tra le più consistenti sequestrate negli ultimi tempi, è stata individuata a seguito dell'analisi e dello sviluppo di diversi input informativi provenienti da alcuni reparti della Guardia di Finanza distribuiti sul territorio di Napoli e provincia. Le forze dell'ordine hanno raccolto diversi indizi circa un probabile arrivo dalla penisola iberica di merce illecita attraverso aziende di trasporto operanti nella zona nolana. L'attenzione degli specialisti del gruppo operativo antidroga del GICO della Guardia di Finanza di Napoli si è concentrata quindi su una società di spedizioni che al momento sembrerebbe del tutto estranea fatti, presso la quale erano giunti pochi giorni prima diversi auto articolati provenienti dalla Spagna con carichi di prodotti eterogenei e mercanzie varie. Una volta individuata la specifica spedizione a rischio tra le numerosissime censite, i militari del nucleo di polizia tributaria di Napoli hanno proceduto all'ispezione del relativo automezzo all'interno del quale sono stati trovati otto barili di plastica suddivisi in due distinti colli che risultavano caricati nella città spagnola di Malaga. A seguito di un ulteriore esame ed un'ispezione più approfondita sono stati rinvenuti sotto un copioso strato di schiuma poliuretanica normalmente utilizzata per il montaggio di infissi e per la stabilizzazione di tetti e pannelli isolanti diversi involucri sotto vuoto contenenti panetti di ascisce e sacche di marioana. La droga sottoposta a sequestro dalla Guardia di Finanza avrebbe portato oltre 2 milioni di euro nelle casse delle compagini criminali che ne gestiscono l'illecito traffico nella fase dello smercio al minuto.